Dark, a che distanza parli dal microfono? Due spanne Due spanne, bravo, ok, sei pronto Due spanne, due spanne Due spanne, due spanne, due spanne Ok, memorizzo Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con DarkFollettino1 Ciao Che è sempre più lezzo Comunque andremo a fare Lucky Wars E siamo su Ghostware Ovviamente IP in descrizione Dateci un'occhiata che ci trovate sia il suo canale Che l'IP del server e la pagina Facebook Da cui vi consiglio sempre di passare Comunque DarkFollettino, sei pronto te? Certo Ok, 3, 2, 1, giù Giù Io tipo, non so, sono entrato Siamo nella stessa mappa, sì Ok, allora Uh, la mappa quella è enorme Allora io penso che stavolta prenderò un Boh, ma nemmeno il kit prendo Ma perché sono senza soldi? Perché non ci... Ma anch'io, ma hanno risentato i soldi Sì Dark, ma seriamente? Non lo so, io ne avevo 30 milioni No, Dark, no Aspetta un attimo Ma anch'io, ma hanno givato un bordello di soldi Non c'ho più nulla Non c'ho più nulla Non c'ho più givato? No, Dark, veramente Non posso più nemmeno sciuppare le cose basilari Non posso nemmeno sciuppare nell'arco Non posso nemmeno sciuppare le frecce Avranno risentato tutto perché c'è la gente con troppi soldi, non lo so Dark, ma io non... Che palle, dai, ma non ci credo Partite senza sciuppare Non posso sciupparmi nulla Ma nemmeno le mele E se tipo non le trovo, come faccio a fare la partita? Perdi No, Dark, dai, non voglio perdere Comunque sono accanto a te Chi è Gino? Aspetta, mi sono subito tippato, eh Ah, e come? Eh, avevo trovato l'Ender Pearl Eh, Dark, scusa Non capisco quale sia il problema Cioè, dal tuo silenzio mi sembri quasi scioccato Non lo so, bu Vabbè, tutto a posto? Sì Ok, allora Comunque, bu Io tipo non ho trovato praticamente nulla nella mia isola Cioè, oddio Cose, diciamo, utili Perché sì, chiaro Non è che ho trovato roba inutile Ho trovato cose che, a mio parere Sono molto, molto, molto utili Però non so effettivamente quanto possano servire Capisci? Insomma, potrebbero anche ritorciarsi contro di me Praticamente ho trovato anche un secchiello di là Oh no, c'è Pina, c'è Pina Vabbè Cos'è ma? Ah, è quella che ti spara in aria Sì, mi sa che mi spara in aria Spero di no, dire il vero Ok, non mi ha sparato in aria D'accordo, allora Io ti vedo Oh, c'è uno al centro Stai attento C'è uno al centro Stai attento, stai attento Eh, mi sono tippato Sono quasi al centro anch'io Mi sto facendo una specie di punte Non mi vedi? No Dall'altra parte Dark, vabbè Attento, è full diamante quella al centro È full diamante Ho visto Tanto mi butto nella lava Ok, no Dark, non ce la farai mai Dark, non ce la farai mai Infatti Dark, sei finito nella lava Dark Sono due pure Sono due Aspetta, Dark Arrivo io, Dark, arrivo io Dark, stai fermo Stai fermo, non fare nulla Mi fermo sono Metano, fermo Eh, vabbè Allora, allora rimanici Allora ti chiami metano Rimanici fermo Rimanici, rimanici Non devi fare nulla Non devi fare nulla Non ci muoio male se Eh, vabbè Va benissimo così Eh, vabbè Dark Ci sto premando anche Ah, ma sei invisibile No, non sono invisibile Lo giuro Dark Non lo giuro Non sono invisibile Sì, sì, sì Dark, non è vero Dark, non lo sono Hai la mela Non è vero Dark Non ho la mela Non ce l'ho Non ce l'ho Dark Tu sei pazzo Stai bruciando Hai preso 7000 colpi E ancora non muori Dark, non è vero Non è vero Dark Smetti di vaneggiare In questo modo Sono morto Dark, ma sei più scandalo Di me addirittura Io che faccio di tutto Per salvarti il culo In tutti i modi La mela OP L'ho trovata L'hanno messa L'hanno messa Nelle ceste Ho vinto Ho vinto E non ho fatto nulla Ok Vabbè No, veramente Non ho fatto nulla Ero fermo nella misura Dark siamo nella stessa mappa Però che palle Io Non so Io non ho soldi Eh, no Io l'ho finito Con lo shop di prima Dark In un genere No, veramente Perché ho shoppato tipo Il kit Ed hanno messo i soldi Infatti dopo Tipo boh Cercherò qualche modo Satanico Per averne altri Perché se no Veramente L'utilità della fornace Serve per bruciare Le persone Che tu conosci tanto bene Uh Dark Ho trovato Le palle di neve esplosive Tu sei accanto a me Per caso? No, no, no C'è il rosso accanto a me C'è il rosso Che è il rosso? Ma non funzionano Ah, invece ha funzionato Vabbè L'ho dovuto spiegare tutte Contro quello lì Però E vabbè No, che palle Ho trovato la cosa Tipo che mi dà 10.000 cuori Eh, buono Sì, buono Però non mi posso muovere Fai te Eh, perché non mi posso muovere Se Nel senso che non posso muovere Mi posso muovere Se non tanto se salto Ah E non l'hai mai trovato Non sai cosa vuol dire No Comunque mi dura ancora 10 secondi Vabbè, intanto provo a muovermi Ma l'utilità di quella cosa Qual è allora? Che sei più o meno immortale Ma non puoi fare nulla Ah Eh, vabbè Vabbè, vabbè Che bello Saltellare 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 Ok, è svanito Vabbè Vabbè, detto questo Posso anche andare a prendere Oh, cazzo faccio io Sono drogato E non ho soldi Faccio le cose Eh, vabbè Dark, anche io non ho un cavolo di soldi Eh, cosa potete dire? E neanche blocchi Per una volta Cioè, dobbiamo giocare in modo legit Teneremmi conto Io quasi quasi non ci credo Ma nemmeno a me piace Ma ti pare? Ma Io vorrei sapere dove sei te Eh, non lo so neanche io Ah, guarda C'è anche un lezzino qui accanto a me Cioè, io non so come ucciderlo Veramente Eeeh Ah, dai Ora Io vado al centro Mi servirebbero dei secchiali di lava Per ucciderlo bene Questo qui Ne hai tre di secchiali di lava? Mhm Tipo di da me Eh, vabbè Allora Allora io non so veramente come ucciderlo questo qui Perché Cioè, ci sono vari Modi, sia chiaro Per Per uccidere uno Uccidere No, no Per uccidere uno come uccidere Sono vari modi, sia chiaro Però io non so effettivamente quali potrebbero funzionare E quali no Capisci? Mhm E quindi Quindi boh Dark E quindi boh Cioè Allora se proprio dall'altro lato è la mia isola Non ti vedo Eh, vabbè Io non so C'è uno qui accanto a me Penso che voglia fare team Non lo so Non lo so Non penso Non penso Ok, no, no Non so come l'ho ucciso Dark Non so come Non so come No, no, no Veramente Cioè c'è morto Tipo mi è svenuto davanti Vabbè Non lo so Veramente Comunque tipo Io ho trovato Cose che penso siano interessanti Ma non ne sono sicurissime Perché non l'ho mai usate prima Eh, boh Secchiere di lava ho trovato Ma non so come funzioni Oddio Comunque Dark E tu dove sei? Sto andando al centro Al centro? Buono, buono Dark Perfetto Se vai al centro Allora è perfetto Beh Ce la faccio Eh, vabbè No, qua c'è uno accanto a me Che sta prendendo fuoco Ma non capisco bene il motivo Ah, lo vedo con la lava Eh Cioè Non lo so Ma stanno bruciando Ma lo vedete? L'hai zoomato? Eh, non ce l'ho l'Optifine Ma c'è morto? Bu Sì, sì Bu Veramente Cose Cose che accadono Cose a caso Cose che accadono Su questo server e basta No, comunque Dark Centro, 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 centro Ma ne manca ancora uno Dove sta? Ah, è quella accanto a me Davvero? Ma qual è quello full diamante? Sì Esatto Eh, Dark Eh, Dark È un problemino Questo qui è un problemino E cos'è? 20 milioni di cuori Eh, anche te l'hai trovato Perfetto Via, buono E come si uccide quello Quello full diamante, scusa? Sì, ti, ti lo ammazzi No, sta andando al centro Sta andando al centro Dark Dark Io non vedo niente Ho 20 mila cuori E non posso dare colpi Come faccio? Boh Io Io non so Ah, sei invisibile? Metti le TNT Sei dell'Isis Figurati, ma figurati Anzi, sono immortale Ma come sei immortale? Io ho 20 mila cuori Però sono caduto giù Non ci credo Sei morto pure Ok, ragazzi Finalmente Siamo giunti All'ultima parte Scusate Per le parti di prima S'erano fin troppo lezze Addirittura Più del normale Però ragazzi Andavano fatte Era una cosa che andava fatta da tempo E quindi è giusto Perderle brutalmente No, eh Sì, esatto Perderle brutalmente È giusto E io appunto Volevo saziare La vostra fame Di shop violento Che tutti noi Un po' abbiamo dentro C'è chi non lo può fare Lo shop violento Perché non c'è il cash Chi può Chi tipo Esagera Come Dark Per esempio E ho andato Senza soldi Ragazzi ogni tanto ci sta anche esagerare Sì, perché no Comunque Io ho trovato cose Diciamo non mi è andata malissimo Ho trovato un po' di archi No, in verità un arco e basta Un po' di archi Sì A casa Sì, vabbè Dai, su via Dark Non siamo qui per fare Di certi professori Sì, vabbè Il cavolo ti do Se ti patto uno al centro Le devo uccidere Però prima Scarica di fulmini No, non è arrivato Sì, accanto a me Ok Sbam Mi sono incastrato Vabbè Sbam Tu Le mie ceste Non le prendi E vedi se qualcuno Mi vuole colpire No, perché non so dove sei Aspetta Però accanto a te Prima Sì, ti vedo Ti vedo Non ti stanno mirando Per ora Ti sta mirando uno Ti sta mirando Ti sta mirando Dark Ti sta mirando Sbrigati Ok Ok Vabbè Diciamo Per poco Via C'è uno full diamond Ma lo sarà ancora Per poco Hai trovato qualcosa Zio, vieni Vabbè L'ha ucciso già l'altro Vabbè Non ho parole Meglio No, non ho trovato l'arco Io sì Comunque Oh Dark Sta tirando le cose Le cose Le cose Sta tirando varie cose Quello là Ce la fai Ucciderlo te Vabbè Non è Porco Metti davanti Sono stato io a tirarti Ti sei messo davanti Ah Una scandalo Allora Sta laggiù Li sto distruggendo l'isola Quello là E non ho ancora capito Che non c'ha speranze A questo punto però Lava, lava, lava Lava come lava E quindi Dark che si fa? Ender per la mano E lo vado ad ammazzare Tieni, tieni Lezzino Allora Intanto io Provo ad uccidere l'altro Perché dovrebbe essere Oh, oh, oh No ragazzi Non era assolutamente Intenzionale Quella cosa lì Non era tipo Lui che aveva scritto una cosa E io che avevo scritto un'altra Per un tipo Una bestemmia Diciamo Imbannabile Perché ne ho scritto a metà Io metà dark No, no Assolutamente Ah, un pochino di ritardo Non si è accorto No, eh vabbè Comunque Io mi sono tipato da uno Oh mio Dio Cosa fa? Cosa fa questo qui? Oh mio Dio Leggissimo Leggissimo Mi uccide Mi uccide Per poco Per poco Per pochissimo Eh, no Ne avevo tipo tre Allora Mi manca un po' di roba No, perché lui era tipo Full limoncino Capisci? E siccome io non ero full limoncino Forse non avevo Cioè Potevo benissimo perderla Allora puoi sbocciare Eh, sì Sboccio assai Intanto salutiamo un aereo Saluta dark Ciao Ciao aereo Ma lui ha trovato Aveva trovato tipo l'armatura Quella tutta incantata Ecco perché era così Quella è il limoncino Sì il limoncino Quella è il limoncino incantata Dark Siamo rimasti a te Appena ti ripi iniziamo No, dove sei te però? Al centro Ok Da ora, via Sbada bim Sbada bim Stronzo Dark Non puoi fare Dark Oh, è rotto in culo Dark Pro snipex Pro snipex Ora va fatta tattica Va fatta tattica Tipo sbada bim E va bo Sbada bim No, 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 no Cosa cazzo? C'avevi lo stick di Cristo Sì Sì Ok ragazzi Come potete vedere Io ho una freccia Dark ha una freccia Cioè Perché Cupido Ci ha colpito Tutte e due Quindi nei prossimi episodi Ragazzi Ci uniremo Con appunto L'unione del matrimonio Comunque ovviamente Trovate il canale D'Archettino Follettino Che sarà costretto A subirmi Per il resto della vita Finché morte Non ci separe In descrizione Spero che questo video Più lezzo del solito Anche se non ne abbiamo proprio vinte Ma comunque è stato lezzissimo E su questo non ci piove Vi sia piaciuto E ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti